Oggi sei a Pignataro Interamena, stai con me esattamente in località Via Santa Maria. Vediamo subito questo giardino e tutte le sue potenzialità grazie al 360 gradi, quindi puoi spostare il dito sul cellulare o mouse in modalità computer. Partendo subito dalla vostra sinistra, vediamo l'accesso alla strada pubblica grazie al passaggio pedonale e Cancello Carrato. Cancello Carrato che ha la possibilità di accedere al locale semi-interrato, quindi il garage, grazie a quella rampa. Poi successivamente, spostando l'immagine sempre verso la vostra destra, possiamo apprezzare quella che è la scalinata di accesso alla zona giorno. La zona giorno, poi abbiamo quindi un primo piano e un livello manzardato. Spostando la visuale ancora più a destra, apprezziamo quello che è il passaggio alla seconda parte del giardino, nella parte retrostante la proprietà. Si può accedere sia da questa parte, quindi da questa scalinata, sia da un'altra scalinata che sta nella parte retrostante. Per tutte le altre informazioni e per fissare un appuntamento sul posto, vi rimando sul sito www.cholfigasa.it